Salve, mi chiamo Francesca e sono un'insegnante di ginnastica dolce e posturale per le persone adulte e anziane. Faccio parte del comitato della WISP di Roma, ma sono anche una formatrice nazionale in questo campo per la WISP. Vi proporrò dei movimenti di ginnastica dolce abbastanza morbidi che faremo un pezzo alla volta e poi metteremo insieme a formare un'unica sequenza. Questi sono movimenti che io propongo regolarmente con i miei gruppi di allievi anziani anche ultraottantenni, però vi sconsiglio di cominciare da questo tipo di movimenti se avete più di 75 anni e non avete dimestichezza con questo tipo di attività e anche invece consiglio alle persone che magari pensano di poterli fare ma hanno qualche problema di equilibrio di prendere una sedia, di mettersela accanto e di usarla come il sostegno nel caso in cui ci sia la necessità di un appoggio. Detto questo cominciamo osservando i nostri piedi e mettendo i piedi in modo che siano paralleli e alla larghezza dei fianchi. Teniamo la testa rivolta in avanti come per guardare in avanti e poi se vi va, se questo non vi crea problemi, chiudete anche gli occhi. Chiudo un momento anch'io e osservate un momento a occhi chiusi. Come vi sentite? Quanto vi sentite in equilibrio? Com'è il contatto delle piante dei vostri piedi con il terreno, con il pavimento? Se c'è differenza tra un piede e l'altro? E poi cominciate a piegare molto lentamente le gambe, piano e poco, a rallentatore le piegate e le distendete. Se volete tenete ancora gli occhi chiusi, fatelo qualche volta tenendo gli occhi chiusi, se preferite apriteli. In ogni caso piegate e distendete le vostre gambe molto lentamente e ogni volta che le distendete sentite bene i vostri piedi e usate le piante dei vostri piedi per spingere dentro il pavimento, per aiutarvi a distendere le gambe. Poi appoggiate le mani sui fianchi, piegate ancora un pochino le gambe e con molta dolcezza e delicatezza cominciate a organizzare un movimento circolare del vostro bacino. Andate piano e organizzate un cerchio più o meno ampio a seconda di quello che vi sembra più comodo. Cercate di organizzare un cerchio regolare. Cambiate la direzione, scrivete dei cerchi votando nell'altra direzione, permettete alla parte alta, alla colonna di partecipare, permettete al movimento di trasmettersi nella colonna senza forzare. Poi portate la vostra gamba destra, io mi muovo a specchio rispetto a voi, è come se io fossi il vostro specchio. La vostra gamba destra la portate avanti, quindi divaricate le gambe sul piano sagittale, la gamba sinistra rimane abbastanza dietro, sentite un momento come state e poi cominciate pianino a piegare dolcemente la gamba che sta avanti, in questo caso la vostra gamba destra. La piegate piano, poco, senza forzare e sentite come lo fate e sentite anche cosa accade alla gamba sinistra dietro, cercando di non sollevare il tallone sinistro. Poi cominciate ad alternare, se è possibile, se non è fastidioso, una volta piegate la gamba che sta avanti e una volta piegate la gamba che sta dietro. Poi cambiate le gambe, portate avanti la vostra gamba sinistra, tenete dietro la vostra gamba destra e piegate e distendete qualche volta la gamba sinistra e sentite com'è, come si piega la sinistra che sta avanti e come si distende, si allunga un po' la destra che sta dietro e poi cominciate ad alternare. Sentite il peso che si spossa in avanti e poi si spossa all'indietro. Poi sciogliete un pochino le gambe facendo qualche calcettino, le divaricate sul piano frontale, portate le punte dei piedi un pochino in fuori e spostate il peso da una parte tra l'altra piegando una volta la gamba e una volta l'altra. E sentite com'è. Poi per qualche volta con molta prudenza provate a piegare tutte le due le gambe e poi risalite. e mentre piegate tutte le due le gambe cercate di tenere il torace sempre abbastanza allineato col bacino, cercate di non inclinarvi troppo in avanti con il busto e tenete le ginocchia verso l'esterno. Poi ritornate, sciogliete un po', fate qualche calcettino, rimettete i piedi alla larghezza dei fianchi, le mani sui fianchi e riprovate un paio di cerchi del bacino in una direzione e poi cambiate direzione. Sentite, se non vi metto è già un pochino più libero, un pochino più facile. Bene. Vi fermate al centro e adesso partite con le gambe un pochino divaricate e il braccio destro all'altezza della vostra spalla destra. E oscillando il braccio piegate e assendete le gambe e spostate il peso da una dall'altra. E permettete al torace, permettete al busto di ruotare un po', permettete alla colonna di ruotare un po' da una parte e dall'altra. Cambiamo braccio, oscilliamo qualche volta il braccio sinistro. E poi, partendo dal centro, andiamo a destra, portati dal braccio destro e a sinistra, portati dal braccio sinistro. Torniamo ancora al centro, mettiamo i piedi nella larghezza dei fianchi, pieghiamo il gomito destro e adesso scendiamo pian pianino, passando anche la testa, portiamo il gomito destro verso il fianco destro e poi allunghiamo il braccio e guardiamo verso il soffitto con un movimento che è un movimento insieme. Il braccio, le gambe e la colonna vertebrale si muovono insieme. Cambiamo braccio, pieghiamo il gomito sinistro e facciamo qualche movimento con il gomito sinistro che va verso il fianco sinistro e poi il braccio si allunga verso l'alto. La colonna si estende e si flette gradualmente, dolcemente. Cambiamo di nuovo il braccio, pieghiamo di nuovo il gomito destro e adesso sviluppiamo questo movimento. Andiamo verso il fianco destro, allunghiamo, ruotiamo un pochino verso destra e apriamo il braccio e la gamba verso destra. Ritorniamo, pieghiamo il gomito e di nuovo verso il fianco destro, su e apriamo. Ritorniamo il gomito e lo facciamo ancora una volta. e poi cambiamo braccio. Il gomito sinistro va verso il fianco sinistro, il lato sinistro si allunga, ruotiamo verso sinistra e apriamo braccio e gamba. Bene, ora portiamo il braccio destro all'altezza della spalla e descriviamo qualche cerchio rimanendo sempre di fronte con il braccio e partecipando, facciamo delle circonduzioni del braccio partecipando con le gambe e con il corpo. Cambiamo braccio e facciamo qualche circonduzione, qualche cerchio con il braccio sinistro. Poi sviluppiamo questo movimento in questa maniera. Andiamo verso destra, iniziamo un cerchio con il braccio destro, coinvolgiamo il braccio sinistro, continuiamo con il braccio sinistro e andiamo verso sinistra. E di nuovo verso destra. Braccio destro, braccio sinistro e andiamo verso sinistra. E ricominciamo col braccio sinistro. Bene, sciogliamo un pochino. Ora facciamo ancora degli altri movimenti. Ci spostiamo verso destra appoggiando le mani sui fianchi. Ci spostiamo verso sinistra allargando le braccia e portandole in alto. Di qua e allargo. Allargo e vado su. Più o meno su due linee diagonali. Cambiamo, andiamo a sinistra e andiamo a destra. Lasciamo andare e adesso facciamo questo. Andiamo a destra con le mani sui fianchi. Andiamo a sinistra allargando le braccia. Andiamo a destra ruotando e portando le braccia intorno la vita. Poi andiamo a sinistra con le mani sui fianchi. Andiamo a destra e andiamo a sinistra ruotando. Ancora di qua. Allarga e ruota. E poi inizia verso sinistra e allarga e ruota verso sinistra. Ritorniamo al centro. Sciogliamo ancora e facciamo ancora un movimento che è un movimento molto fluido, molto morbido, che è questo qui. Con il braccio che si muove tutto intorno al torace, intorno alla testa, se è possibile ma anche dietro la testa. Cambiamo braccio e ne facciamo qualcuno con il braccio sinistro. Consentiamo al torace di partecipare al movimento. E le gambe partecipano, continuano a partecipare. Bene. Adesso sciogliamo un pochino le braccia, le gambe e proviamo a mettere insieme tutti questi movimenti. Cominciamo scendendo piano piano giù, abbassando piano piano la testa. Poi pieghiamo il vostro comito destro, il vostro braccio destro e allunghiamo un po'. Portiamo il comito destro verso il fianco destro, allunghiamo di nuovo e allunghiamo di più e cominciamo a ruotare verso destra. Apriamo il braccio destro, continuiamo con il braccio destro facendo un cerchio, poi involgiamo pure il braccio sinistro, appoggiamo le mani sui fianchi e ritorniamo. E abbiamo fatto una prima parte di sequenza. Ora facciamo la stessa parte di sequenza, cominciando con il braccio sinistro. Quindi scendiamo giù, portiamo sul braccio sinistro senza allungare troppo, guardando il soffitto. Vomito sinistro e bianco sinistro, allunghiamo di più e ci giriamo un po' a sinistra. Braccio e gamba, continua il braccio sinistro, coinvolge pure il destro, continua fino ad arrivare a destra con le mani sui fianchi e poi ritorno. Ora facciamo la seconda parte della sequenza iniziando verso destra ed è così. Allargo le braccia verso destra, ruoto verso sinistra, porto il braccio destro fino all'altezza della spalla destra di lato, lo oscillo, ritorno e lo faccio girare tutto intorno e poi mi fermo. Stessa cosa iniziando verso sinistra. Allargo le braccia, ruoto, braccio sinistro, lo oscillo, ritorno e lo faccio girare tutto intorno. Ora mettiamo insieme la prima e la seconda parte della sequenza e facciamo tutto iniziando con il braccio destro. Quindi scendiamo giù, pieghiamo il romito destro, andiamo un pochino su, allunghiamo, ruotiamo verso destra, andiamo di lato e il braccio destro continua e il movimento continua pure con il braccio sinistro. Arriviamo a sinistra e allarghiamo verso destra, ruotiamo, braccio destro, oscilliamo, ritorniamo, giriamo tutto intorno e ripartiamo dal centro e ricominciamo tutto, questa volta cominciando con il braccio sinistro, con il vostro braccio sinistro a specchio rispetto a me. Coinvolge anche il braccio destro e qui si arriva a destra per poi ripartire verso sinistra. Alla fine di tutto, facciamo ancora qualche calcettino con le gambe, rimettiamo i piedi paralleli sotto il bacino, le mani sui fianchi, pieghiamo le ginocchia, facciamo ancora qualche cerchio del bacino per concludere e sentiamo com'è adesso il movimento e quanto ci coinvolge, quanto coinvolge la schiena, la colonna, senza sforzo, in modo morbido. Cambiamo un giro, poi lasciamo le braccia distese, cominciamo con lo sguardo rivolto in avanti e se vogliamo chiudiamo un secondo gli occhi per osservare le sensazioni che abbiamo e per sentire se il nostro modo di stare in piedi e se la sensazione che abbiamo del sossegno dei piedi e delle gambe è un pochino diversa, se il senso di equilibrio è un po' diverso, se l'appoggio dei piedi è un po' diverso. E poi arrivederci a tutti.